Sabato 9 ottobre, ore 21, Teatro Ars di Cornate d'Alta. La compagnia Camombabi torna in scena dal vivo. Il nuovo musical dell'anno è Robin Hood. Tutta la magia del film Disney e le musiche di Manuel Frattini in un unico grande spettacolo. Al Teatro Ars di Cornate d'Alta, sabato 9 ottobre alle 21 e domenica 10 alle 15.